Vandali, teppisti, esaltati o antagonisti politici che siano hanno le ore contate. I carabinieri sono già sulle loro tracce. Nell'arco di tre giorni hanno prima danneggiato l'auto del sindaco Giovanni Gugliotti, un Alfa 159, e poi quella del consigliere Walter Rochira, una Mini Cooper, rompendo i parabrezza a colpi di spranga. La notte scorsa hanno dato fuoco alla Mini Cooper di Rochira, distrutta dalle fiamme. Il sindaco di Castellaneta è stato convocato dal prefetto e dai carabinieri. Questa situazione sicuramente non può più essere tollerata. Sono certo, da quel che ho visto e dal lavoro che stanno portando avanti gli inquirenti, che a breve verremo a capo e a tutta la vicenda. Credo si tratti di esaltati. Gli inquirenti indagano a 360 gradi, ma c'è un'ipotesi investigativa preponderante. Gli attentati sarebbero stati compiuti da giovani esaltati e politicamente indottrinati a seguito di una banale polemica nata dalla costruzione di un monumento sacro alla periferia del paese, a cui tra l'altro l'amministrazione ha rinunciato.